Il progetto Ustica è la ricostruzione attraverso un videogioco, attraverso il medium videoludico di quella tragica notte. Il progetto Ustica è una simulazione 3D che si avvarrà delle tecnologie di realtà virtuale come l'Oculus Rift. Il giocatore si troverà in 3D in prima persona all'interno del 19, come se fosse l'ottantaduesimo passeggero. L'obiettivo del giocatore sarà scoprire degli oggetti, dei pezzi di puzzle che saranno in mezzo agli effetti personali dei passeggeri nel caso dell'interno del 19. Questi pezzi di puzzle attiveranno altre telecamere che saranno attive nelle successive sessioni di gioco, telecamere che saranno posizionate all'esterno del 19, sul primo MIG, sul secondo MIG, a bordo del primo aereo fantasma, del secondo aereo fantasma, dell'F-104 italiano, di un ipotetico peschereccio che assisterà alla scena vedendola dal basso e in una sala radar. Questo videogioco durerà una manciata di minuti in una singola sessione, ma quella manciata di minuti ci consentirà di insinuare un ricordo forte in chi gioca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.